Ciao a tutti, io sono Dista e bentornati su MindChart. Nel video di oggi andiamo a vedere come scovare le cripto gemme. Sarebbero progetti al coin a bassissima capitalizzazione di mercato. Parliamo di 20, 30, 40 milioni di market cap e quindi potrebbero avere un altissimo potenziale, ma ovviamente grandi guadagni, grandi perdite. Andremo a scovare queste cripto gemme direttamente su Bitcat che presenta una sezione molto innovativa chiamata Innovation Zone. Questo è l'exchange, come si presenta? Ho fatto un sacco di tutorial che troverete direttamente sul nostro canale YouTube in modo che potete muovere i primi passi in maniera completamente autonoma. Per comprare cripto si può fare in maniera molto semplice, si può fare attraverso carta, attraverso criptovalute o in modo più semplice attraverso bonifico bancario. Voglio ricordarvi prima di iniziare di una super promo. Potete ricevere BGB gratis, che sarebbe il token dell'exchange. Sono due step e lascerò tutto in descrizione. Prima cosa è registrarsi attraverso il mio link. Step 2, iscriviti alla campagna e ci sarà il secondo link che poi vi riporta a questo articolo. Quando vi iscriverete la campagna seguendo i due step riceverete 10 BGB e dopo se fate attività di trading, quindi il primo trading sui futures 20 BGB, primo copy trade 20 BGB. Se invitate gli amici vi consiglio a farlo in molti, 30 BGB guadagnerete e se fate un primo trade nell'innovation zone altri 20 BGB. Ma poi ci sono anche molte molte altre cose. Per accedere fate clicca per partecipare, una volta iscritti col mio link e qua vedi uniscita la campagna per richiedere il tuo bonus. Partecipa subito. Vi consiglio di non perderla, tanto comunque è completamente gratuita. E inoltre col mio referral link avrete anche il meno 20% di scontavita sulle trading fees. Andiamo a scovare le nostre crypto gemme. Trade, innovazione o innovation zone. È stato tradotto in italiano. Qua troviamo tutti i progetti, tutte le coin, direttamente tradabili in spot trading. Ce ne sono un sacco, sono tutte nuove. DPX, PLS, CAI, BOT, WOOF, RDNT, GRAIL, AGIX, parliamo dell'AI e ce ne sono molte altre. Se non conosciamo questi progetti, dobbiamo andare a fare delle ricerche, assolutamente. Quindi, per esempio, vogliamo capire cos'è DPX. La cosa più banale ma funzionale è andare su CoinMarketCap. Andare sulla ricerca, scrivere DPX, perché per ogni progetto dobbiamo capire cosa stiamo facendo. Questi token dell'innovation zone possono essere tradati, quindi per speculare, oppure per un piano d'accumulo. No consigli finanziari, però è un modo per utilizzarli. Ovviamente, poco capitale, perché essendo molto molto volatili, per esempio questo token DOPEX, ci troviamo al rank 2728, ha un market cap sotto i 100 milioni, 88 milioni. Qua vediamo un po' tutto lo storico e qua possiamo andare direttamente sul loro website e capire di cosa si tratta. Hanno anche web paper, possiamo leggere web paper. Dobbiamo fare sempre delle ricerche molto mirate. Quindi questo esempio che sto facendo lo facciamo non solo per DPX, ma per tutti questi progetti presenti nell'innovation zone. Possono essere tradati direttamente attraverso lo spot. Clicchiamo. Ci riportano alla sezione di spot trading. Questa è la classica schermata. Qua troviamo il grafico fornito da TradingView. Possiamo mettere tutti i time frame e fare poi le nostre analisi in maniera molto molto semplice. Possiamo anche aprire a tutto schermo. Quindi come se abbiamo un TradingView classico. Qua abbiamo il nostro libro degli ordini e qua possiamo fare trading. Se andiamo direttamente sul PACE PLS USTT, vediamo la classifica dove si trova al post 200766 e ci spiega un po' che cos'è realmente. Dopodiché dobbiamo andare su CoinMarketCap. Come vi ho fatto vedere, per esempio scrivere PLS. Andiamo a capire che cos'è questo progetto. Vediamo che ha un MarketCap di 5 milioni. Quindi è una gemma piccolissima come MarketCap. A volte che andiamo sul sito andiamo a capire poi realmente di chi progetto si tratta. È una maniera molto basica però magari chi ha le prime armi deve capire come funziona. Quindi possono essere utilizzati per fare speculazione e trading o per un piano d'accumulo. Ovviamente sempre prima con ricerche molto molto mirate. Inoltre BitCat, rimanendo sempre in tema gemme e speculazione, presenta la sezione Launchpad. Quindi possiamo investire in anticipo sui progetti. Qua vediamo gli ultimi progetti. Per esempio qua è presente Halo. Facciamo solo un esempio. Clicchiamo sul progetto. È già terminato. L'exchange poi vi dà il website, tutti i dettagli. Quindi il sito web, i dettagli del progetto. Vi porta sull'articolo. Vi fa capire un po' tutto nel dettaglio. In modo da andare a capire. Al momento i Launchpad sono terminati. Però secondo me terrei monitorata questa sezione perché è molto molto interessante. Molto bene, siamo giunti al termine. Abbiamo fatto una panoramica. Abbiamo capito dove scovare queste cripto gemme. Abbiamo anche capito che dobbiamo fare ricerche molto mirate. Quando si parla di questi progetti che hanno bassissima capitalizzazione di mercato. Vi ricordo ancora di partecipare alla campagna perché potete ricevere subito 10 BGB gratis. Ma poi se fate quello che vi ho spiegato all'interno del video potete guadagnare molti molti più BGB. E il meno 20% di scontavita sul trading fees. Io con ciò vi voglio salutare e ci vediamo al prossimo cripto approfondimento.